Ciao a tutti amici del 20 giugno, ben trovati, sono da pochissimo passate le 17 e come al solito siamo in forma super smagliante per presentarvi in diretta rigorosamente una nuova puntata della Your Chart allora oggi abbiamo deciso di dedicare il nostro lunedì pomeriggio a Paola una giovane fanciulla che ci scrive da Santa Maria delle Mole in provincia di Roma e che proprio in questi giorni sta affrontando la dura prova degli esami comunque più tardi parleremo con lei quindi ci faremo raccontare con tutta calma come sta andando tra l'altro non parleremo solo con lei visto che abbiamo la possibilità anche oggi di conoscere uno scoiattolino o una scoiattolina all'ascolto che deciderà di partecipare a Renault Safe & Sound per vincere il pacchetto di gadgets firmati appunto Safe & Sound by Renault quindi per chi si volesse prenotare c'è un numero di telefono disponibile da questo momento che è lo 02437054 e adesso possiamo partire con le posizioni più basse della selezione musicale di Paola siamo alla numero 10 dove ci sono addirittura le tattoo le tattoo, ci rendiamo conto? dove saranno mai finite? a casa tua? no? check per favore proprio loro capito? quelle che dovevano ridefinire i confini del pop o volendo anche del porno soft ma questa è un'altra storia comunque non ce le vediamo passiamo direttamente alla posizione numero 9 dove ci sono i Black Eyed Pistons Shut Up e con piacere ci rivediamo in questo video we try to take it slow but we're still losing control and we try to make it work but it still ends up the worst and I'm crazy direi che questa è la canzone perfetta per mettersi ufficialmente in modalità pubblicità quindi perché non approfittarne? a tra poco